La CGL Funzione Pubblica di Pescara questa mattina nel corso di un sit-in ha denunciato il grave comportamento assunto dall'ASL di Pescara che in disaccordo a tutti gli affidamenti presi e sottoscritti in sede istituzionale ha deciso la chiusura coatta del centro di urno integrato di Pescara con il rischio di lasciare i lavoratori e le loro famiglie senza lavoro. Si chiede a questo punto all'assessorato alla sanità un tavolo di lavoro urgente per trovare immediate soluzioni. La situazione è gravissima perché anche le testate giornalistiche hanno vissuto questa storia, sembrava risolta per lo più, invece tutti gli affidamenti, gli incontri, gli accordi sottoscritti in sede istituzionale, sto parlando naturalmente di prefettura, comune di Pescara, ispettorato del lavoro, da parte dell'ASL sono stati totalmente disattesi, quindi gravando sostanzialmente, mettendo in luce una gravissima violazione ai confronti dei lavoratori e dei pazienti psichiatrici, ma anche delle istituzioni che hanno accolto questa avvertenza che sembrava incanalarsi su una strada risolutiva. Purtroppo per totale responsabilità o meglio sarebbe bene dire per totale irresponsabilità della ASL ci troviamo a questo punto. Perché? Perché appunto la ASL aveva dichiarato e sottoscritto che tutti e 27 i lavoratori dell'appalto sarebbero stati tutelati nel cambio appalto e invece abbiamo scoperto che soltanto 20 e quindi quelli che agiate al centro di urno integrato di Pescara, appunto dove siamo, verrà chiuso e quindi 7 i lavoratori verranno licenziati. E c'è di più i pazienti psichiatrici, i quali hanno bisogno di questo servizio, secondo la ASL potrebbero essere spostati come pacchi postali in altre regioni. Ma qui noi abbiamo scritto anche all'assessore Verì e spero che immediatamente confoghi un tavolo per rimuovere questa situazione, ma perché noi la mobilità passiva non la dobbiamo sponsorizzare perché significherebbe togliere servizio e anche proventi appunto la nostra regione. Da come tu la vuoi guardare questa situazione è una situazione non grave, gravissima, paradossale. È l'unica responsabile di tutto questo per non aver rispettato appunto gli affidamenti e i patti, è la ASL di Pescara nero su bianco.